Manzari Assicurazioni ha festeggiato 60 anni di presenza sul territorio pistoiese nei luovi locali in via Corrado da Montemagno a Quarrata. Una giornata importante perché per noi Quarrata ha rappresentato sempre un po' fiore all'occhiello sul territorio pistoiese, noi siamo agenti a Pistoia ma gestiamo anche il territorio della montagna pistoiese di Quarrata, Aliana e Montale. Negli ultimi periodi, Quarrata sappiamo cosa ha subito anche nel novembre scorso e d'accordo con i subagenti appunto di zona abbiamo deciso di rilanciare l'agenzia, di ristrutturare i locali che già esistevano e quindi di creare questo incontro conviviale con la nostra clientela che da ben 60 anni ci sta dando fiducia e continua a darci fiducia. 60 anni da quando iniziarono la piazza Risorgimento dopo si sono spostati qui in via Corrado da Montemagno questa funzionale agenzia generale che ha 23 dipendenti e che è stata fondata grazie al signor Manzari Michele e il grande merito della famiglia Manzari. È un lustro per la città di Quarrata, per tutta la nostra area metropolitana e sono veramente tanto soddisfatto di vedere ci sono delle attività che a Quarrata funzionano, vanno bene ed è il dovere dell'amministrazione del sindaco essere a fianco. Io ho avuto la nomina tanti anni fa nel 67 dalla vecchia INA, poi c'è stato l'acquisto dell'INA da parte di generali e sono diventato agente delle generali. Sono entrati ad aiutare e a lavorare ora con questa carica anche i miei figli per cui diciamo è dal 67 che la mia famiglia era nell'INA, poi è stato in generali e ancora continuo a lavorare. Manuela, Erika, Fabio, Michela. Noi siamo appunto i collaboratori della superagenzia di Quarrata, siamo molto contenti di questa occasione perché festeggiamo 60 anni appunto di storia, appunto del buon Corrado che quando iniziò insomma tanti anni fa noi siamo lieti di prendere anche un po' il testimone di quello che lui ci ha lasciato, soprattutto continuare con la collaborazione alla famiglia Manzari e siamo contenti anche dei nuovi spazi, siamo pronti per essere attivi sul territorio, accogliere tutti i clienti con la passione, la simpatia, l'attenzione e la fiducia. Chiaramente noi affrontiamo i nostri clienti quotidianamente offrendo anche soluzioni diverse rispetto a quelle che erano non solo 60 anni fa ma anche pochi anni fa. Il mercato assicurativo in questi anni si è evoluto tantissimo, offriamo soluzioni sì di pensioni integrative, di investimento ma anche soprattutto rivolta alla tutela sanitaria e contro la non autosufficienza che sono argomenti che trovano molto riscontro nella clientela. Chiaramente ci siamo adeguati anche al mondo che cambia quindi sempre più vicinanza con la nostra clientela attraverso le app, il digitale, le nuove proposte arrivano direttamente sul cellulare dei nostri clienti e soprattutto i più giovani apprezzano qualche volta chi un po' più anziano invece ancora forse non riesce a digerire questo passaggio che però è inevitabile.